Nulla da fare per chi aveva sperato nel passaggio della Puglia in zona arancione. Si resta in fascia rossa almeno fino al 25 aprile in triste compagnia con Sardegna e Valle d'Aosta. D'altra parte i parametri non hanno consentito il passaggio. È vero che il valore RT è sceso sotto la soglia di 1 ma resta ancora alto il numero di contagi che seppur in lieve decrescita supera di gran lunga la media italiana. Ieri per esempio era dell'11,4%. L'incidenza a livello nazionale è di 182 nuovi casi ogni 100.000 abitanti mentre in Puglia si viaggia oltre i 250. La media regionale è di 261. Ma ciò che pesa di più è la pressione sugli ospedali. In area covid non critica sono occupati la metà dei posti letto disponibili, 10% in più oltre la soglia mentre la situazione in terapia intensiva è peggiore nel senso che il 47% dei posti letto è occupato da malati covid quando la quota di allarme è fissata al 30%. Non solo, ma la Puglia quotidianamente fa registrare un numero di nuovi ingressi in terapia intensiva che la pone ai primi posti nella triste classifica nazionale, seconda in genere solo alla Lombardia. È logico che non ci potesse essere il passaggio in zona arancione. Vanno meglio le cose sul fronte delle vaccinazioni, per cui al di là delle lamentele di chi ha atteso in fila per qualche ora o delle polemiche politiche a volte pretestuose, i dati parlano chiaro. E questi dicono che la media regionale degli ultimi sette giorni di dosi somministrate si attesta sui 25.465 vaccini inoculati al giorno. La Puglia risale così al sesto posto in Italia nel rapporto fra dosi consegnate e dosi somministrate con un 85,9% e come dato numerico assoluto più di 920.000 dosi somministrate, come dire che quasi un quarto dei pugliesi ha ricevuto almeno una dose. Gli hub vaccinali stanno lavorando alacremente con il coinvolgimento dei medici di base e dei volontari e con questo ritmo, in base alle proiezioni, in Puglia per coprire il 70% della popolazione si raggiungerà tale obiettivo il 16 ottobre prossimo, rispetto alla previsione del governo di agosto, sì, ma comunque di gran lunga prima della media nazionale che segna il 13 dicembre. Intento del responsabile della protezione civile pugliese Mario Lerario, da qualche giorno a capo della logistica per quanto riguarda le vaccinazioni, è comunque di portare il numero giornaliero di somministrazione di vaccino a 40.000.